Musicultura rende noti i nomi dei 18 finalisti del celebre festival della canzone popolare d'autore. Sono il frutto di una selezione lunga ed articolata dedicando tre mesi all'ascolto delle canzoni in concorso. 61 proposte sono state selezionate e convocate a Macerata dove hanno sostenuto un'audizione di fronte alla commissione d'ascolto e al pubblico che per dieci giorni ha gremito il teatro Laura Rossi. Ecco i nomi dei finalisti. Caspio di Tieste, Emmit di Lodi, Io sono Rama di Napoli, Isotta di Siena, Kamahatma di Trecate, Malvax di Modena, Cassandra Raffaele di Vittoria, Sandri di Cesena, Sara Loreni di Parma, Sofia Rollo di Lecce, Tecchiero Uridice di Piacenza, Tremorbelli di Alessandria, Valeria Sturba di Bologna, Valerio Lissander di Roma, Martina Vinci di Genova, Vito di Palermo, Io di Ravenna e Joshe Weile di Salerno. Gli artisti e le artiste che compongono la rosa dei finalisti saranno protagonisti di un'insenza due giorni, il 3 e 4 maggio a Recanati, al Teatro Persiani. Rai Radio 1, la radio ufficiale, li trasmetterà in diretta a partire dalle ore 21.05 con Gio Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua alla conduzione. Assieme ai finalisti ci saranno anche alcuni ospiti tra cui Enrico Ruggeri, Amara e Simone Cristicchi. Le canzoni dei finalisti andranno a comporre il CD compilation di questa edizione. Alla proclamazione degli otto vincitori si giungerà in base alle indicazioni di musicultura, che si riserva all'individuazione di due vincitori e alle scelte del Comitato Artistico di Garanzia, che designerà i restanti sei vincitori. Gli otto vincitori saranno poi protagonisti a giugno delle serate di spettacolo finali del festival, in programma all'Arena Sferisterio di Macerata e in diretta su Rai Radio 1.